e benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono andropower09 oggi siamo con bsc karama e oggi andremo alla ricerca di siren head l'avevate già sentito qualcuno in una live della si chiamava patch 12.60 nuova arma punto di domanda al minuto 18 sentirete io che torno in bagno io che torno in bagno e poi sentirete la sirene di siren head rega vi giuro che non era clickbait perchè oddio sul cadarro era in live quindi non potevo photoshopare in live oggi faremo sto a parlare oggi cosa allora ricomincio la capo ciao sono una persona mi chiamo andrea vabbè basta basta non riesco a parlare oggi allora c'era questa storia che storia vabbè narra su youtube che se te andavi a idro 16 e non guardavi per ogni tanto magari luttavi poi uscivi fuori a guardare la diga si diceva che si sentiva la sirena in serie ned che mamma mia rega e mette un rumore che non avete idea rega mette quel rumore quindi andiamo a polso traballante a luttare poi si andiamo lì vicino alla cascata alla cascata oh ma so parlare o cosa oggi non so parlare fai te da guida eh ma non ce l'ho oggi eh si vede che sta iniziando a imparare ma sono molto simpatica grazie fucile pesata carica epico non te lo dò vado come un riccio tanto c'è la due ah ma è vero che questa è combat ah ma è vero che siamo in modalità con la modalità di solo punto tanto il combat fra c'è un nemico da me c'è un nemico ma c'è che viene qua appunto un bot un bot fucile pesata di combat fra l'altro combat guarda come un riccio attento avrà comunque c'è nemico è un bot è un bot perché sta sparando alla ca per favore 18 da rara ti posso parlare questo qua la musica dei scendini frattano giallo ancora lui con il mio amore assoluto 16 16 ma grazie per avermi dato uno scendino non due uno ora vogliamo farci una specie di fortino facciamo così non c'è mazzo e non tre io sì ok ora guardiamo la diga tutto il tempo scusate che ogni giorno mi scappa non c'è mazza Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, dopo regalo, vado a vedere il video e vedo se è vero, vedo se è vero. Grazie a tutti per me tutti. Eh, me ne hai lanciato uno sotto a me. Ma te ne ho lanciato i due. Oh, no. In tal caso fatti anche quello. Gitto, c'è un nemico. Fra, fatti questo. E' guattissimo, Fra. Che botte. È scattato, vero? Sì. Ma, ma Fra, seriamente. Fra, vedo gente, vedo gente là. Devo fare un po' di mazzo, va. Che no, zero in pratica. Potremmo fare una skybase, Fra, qua. Così non riescono a distruggerla. Con 30 di legno e 16 di ferro. Eh, Fra. Ma se Fra, però, potrebbe magari salire con la falegna merì a Truceolandia, dove andavamo a far amare come dei matti. Sì. Potremmo fare una skybase un giorno. Uh-huh. Chiaro. Ma una volta mi ricordo che abbiamo fatto vitro a reale, se non sbaglio, facendo skybase. Chiaro, vetti. No, rega, non ci credo. Ma poi perché quando devo andare sempre in bagno, devo pisciare? E sento poi, non sento, io lo sente lui. L'altro. La sirena di sirene. Ed. Perché è sfiga? Cioè io nel muro sono sfigato male. Pisello, è colpa tua? Rega, è colpa sua se... Censuri per la colonna. Ma perché? Fra, Fra, non so neanche... Ma Fra, non so neanche fare l'intro, vuoi che censuri? Fra, c'è un cioppa. Aiuto! Cosa fa la giocata della vita se non riesce? Fra, dobbiamo fare la tattica elicotterosa anche qua. Guarda, un altro cioppa! Oh, ma ci sono cioppa dappertutto, rega! Fra, non mi fa più muovere. Non mi fa più muovere! Spiazza option. Ok, adesso sì. Perché ho cliccato le tasse dei balli. Eh, ci sta affrontando! fra fra è meglio andare in safe fra è meglio andare in safe guarda te attenzione fra va in safe guarda dove è una cassa una nota no o fra una terra una terra ora andiamo 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 non sono anche tutti deboli Pietro questa è un pezzo di merda figlio di pu... come sta qui la censura vabbè riga adesso andrò a vedere se ho sentito se ha sentito Sirenet veramente spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e soprattutto condividete la live se no domani diventerete femmine se siete maschi femmine se siete femmine